di Aldo Moro tra politica e cristianità. La figura del grande statista e i suoi scritti sono ancora oggi di grande attualità. La sua figura di statista illuminato ha dato lustro alla natia Puglia, ma i suoi conterranei non sono gli unici a non averlo dimenticato. Nel centenario della nascita di Aldo Moro un nuovo lavoro letterario ne ricorda la figura. A tracciare il profilo del politico, del padre del Cristiano e Nicola Giampaolo, postulatore della causa di beatificazione del presidente pugliese dell'ADC. Il volume è stato presentato nella sala consigliare del comune di Rutigliano con un dibattito avvincente tra l'autore, il sacerdote Pasquale Pirulli, il giornalista Enzo IV, il sottosegretario alla pubblica istruzione Angela Donghia e Don Giovanni Amoddio, vicario zonale di Turi. Toccanti le parole della senatrice Donghia che ha ricordato alla platea quanto sia importante il compito a cui è chiamata la classe politica, soprattutto in questi nostri tempi difficili. La politica è il più alto incarico al servizio della comunità, ha detto il sottosegretario. Non bisogna lasciarsi sopraffare dal delirio di onnipotenza. Un ritorno quindi alla sacralità della persona che Moro ha voluto inserire nella nostra Costituzione. Dal dibattito è emersa la grande modernità e lungimiranza del pensiero politico di Moro, ma anche il grande esempio di cristianità che rappresenta ancora oggi il suo insegnamento. Aldo Moro si è immolato sull'altare dei suoi ideali per regalarci un mondo migliore, un sacrificio che tocca a noi non rende...